kirkegaard ragiona in diversi testi soprattutto in out out e in timore e tremore dei cosiddetti tre stadi dell'esistenza lo stadio estetico lo stadio etico e lo stadio religioso in particolare out out segna il passaggio dal primo stadio quello estetico al secondo quello etico laddove timore e tremore espressione desunta da san paolo con tutta evidenza segna il passaggio dal secondo cioè lo stadio etico al terzo lo stadio religioso gli stadi della vita così come li intende e li esplica kirkegaard sono tre modelli generali di vita tre modelli che l'individuo il singolo individuo da che la filosofia di kirkegaard anti egheliana per sua vocazione non si riferisce mai ad essenze universali ma sempre all'esistenza del singolo sicché questi tre stadi dell'esistenza sono essi stessi riferiti alla vita individuale all'esistenza del singolo ebbene il singolo nella sua esistenza concreta può scegliere a quale di questo di questi tre stadi consegnarsi e questi tre stadi sono tendenzialmente in sequenza tra loro tale per cui la sequenza vi sarà una sorta di crescita una sorta di salita per cui si partirà dallo stadio più basso quello estetico per poi passare gradualmente evidentemente e forse agli altri due non c'è alcuna necessità infatti in questo transito non c'è nessun passaggio dialettico non c'è nessuna aufebung con leggi necessitate in ciò vi è un'ulteriore differenza tra kirkegaard e eghel ancorché anche kirkegaard ricorra a una triade ma non dialettica a distinzione delle triadi egheliane non vi è alcunché di necessitante solo la libertà soggettiva e indeterminata del singolo a rendere possibile il passaggio da uno stadio all'altro il che significa che il passaggio è dettato da una libera scelta del singolo certo il pieno sviluppo di ciascuno dei tre stadi può essere fattore di passaggio a quello successivo anche se ripeto nulla vi è di universale potremmo dire che da questo riguardo sotto questo riguardo è sempre il singolo a decidere certo vi è un'evidente analogia per certi versi con la dialettica egheliana che presenta anch'essa il percorso triadico secondo quella che manualmente sui manuali anche se in hegel non si trova mai così definita si chiama la distinzione tra tesi antitesi e sintesi cosa che ripeto non si trova mai nei testi di hegel in ogni caso da questo punto di vista dicevamo la logica di kirkegaard è differente perché non è necessitante e poi si sottrae a quel processo di compresenza degli opposti che nella logica dialettica di hegel potremmo dire del et et quella di kirkegaard è una logica tragica esistenziale basata sull'out out o o la scelta significa scegliere esistere significa scegliere scartare possibilità in maniera tragica questo è di fatto scegliere ed esistere potremmo dire che se per la logica hegeliana vale let et per l'esistenza concreta kirkegaardiana come titola l'opera di kirkegaard vale out out si sceglie o questo o quello e la scelta dell'uno implica e o y l'esclusione dell'altro ora la prima fase quella estetica che trova la sua incarnazione nel seduttore don giovanni è quella di chi si basa sulle esperienze puntiformi del godimento estetico come don giovanni che in fondo compie un'unica operazione sceglie sempre di nuovo donne senza in realtà mai scegliere una scelta apparentemente ribadita all'infinito perché don giovanni continua a scegliere a scartare le proprie scelte ma in realtà è una scelta che non si determina mai ed è in realtà l'opposto della scelta è un non scegliere sotto questo riguardo la vita del don giovanni è una vita di non scelta è una vita che insegue un nuovo che in realtà è sempre il medesimo è una vita che di fatto è all'insegna del quantitativo si collezionano esperienze come un cacciatore che va a caccia di sempre nuove prede vive dell'istante don giovanni gode in maniera puntiforme di ogni sensazione che la realtà gli offre apparentemente sembra il non plus ultra della libertà ma in realtà è tutto fuorché libero don giovanni è il mondo che sceglie per lui l'unica scelta che don giovanni fa è di non scegliere ossia di scegliere che sia il mondo a scegliere per lui e infatti don giovanni scegliendo tutte le donne che incontra di fatto non ne sceglie nessuna è il mondo che sceglie per lui come dicevamo sotto questo riguardo la libertà e la dominazione che egli percepisce inizialmente precipitano si sgretolano perché in realtà non è libero non sceglie è determinato dal mondo oggettivo sotto questo riguardo oltre a don giovanni c'è un'altra figura che compare nei testi kirchegardiani la figura di johannes che compare in alcune lettere il seduttore intellettuale capace di sedurre epistolarmente la vita dell'esteta che sembrava il non plus ultra della libertà si rovescia in realtà nell'opposto un capovolgimento forse più hegeliano del previsto si potrà dire ma l'esito di questa libertà che in realtà si capovolge nel proprio opposto è la disperazione in una situazione in cui il soggetto si smarrisce si trova privo di libertà non può che nascere la disperazione dice kirchegard sicché la figura di don giovanni culmina non già nel senso di libertà ma esattamente nell'opposto nella disperazione come come negazione della della propria scelta sotto questo riguardo abbiamo come diversa figura come secondo stadio dell'esistenza lo stadio etico lo stadio etico che è quello che a cui si addiviene superando per disperazione lo stadio estetico lo stadio etico è quello in cui l'uomo si radica a differenza di don giovanni che vive per istanti sempre rinnovanti l'uomo etico si radica in una scelta l'esempio perfetto del dello stadio etico è quella del consigliere di stato guglielmo il burocrate statale che viene presentato da kirchegard come il corrispondente epistolare che si rivolge tramite lettera a un amico più giovane che si trova in difficoltà sulla strada da scegliere in particolare è indeciso tra la vita estetica e quella etica e guglielmo con forti richiami alla tradizione luterana mostra epistolarmente all'amico i tratti positivi della vita etica quella radicata nella scelta quella con un posto fisso di lavoro diremmo oggi con la vita matrimoniale stabile e poi naturalmente con una sorta di scelta sempre rinnovata se il don giovanni nella vita estetica non sceglie paradossalmente perché sceglie una dopo l'altra tutte le donne che incontra l'uomo etico invece sceglie sposandosi scegliendo il lavoro scegliendo la propria vita compie una scelta ben definita e la rinnova fino in fondo ogni giorno se la vita estetica temporalmente era puntiforme quella etica invece si configura come una linea retta come una scelta che si determina progettualmente aprendosi al futuro non avendo un progetto la vita estetica si risolve nell'istante avendocelo la vita etica si radica nel tempo progettualmente l'uomo etico vuole infatti cambiare continuamente e per questo l'etica vive nella ripetizione cioè nel desiderare continuamente la scelta fatta originariamente la vita lavorativa e quella sentimentale e matrimoniale ne sono il simbolo tuttavia anche l'atteggiamento etico dice kirkgaard può entrare in crisi pur essendo un superamento della disperazione del momento estetico può non di meno precipitare anch'esso in una sorta di crisi da che manca del riferimento a un valore assoluto da che la vita etica è una vita radicata nella scelta sì ma nella scelta del finito e per il finito l'uomo etico non è in grado di agganciare la propria esistenza all'assoluto da ciò scaturisce dice kirkgaard una crisi esistenziale che finisce per travolgere la finitezza dell'uomo etico ed è simboleggiata dal pentimento il pentimento consiste nel rendersi conto del fatto che la propria vita è proiettata nella finitudine in quella finitudine che rende insignificanti le scelte etiche sicché a questo punto dice kirkgaard il pentimento viene superando nell'adesione al terzo modello di esistenza che è quello di tipo religioso la possibilità di una nuova dimensione quella della vita religiosa trova il proprio eroe in abramo abramo è l'eroe della vita religiosa dio chiede ad abramo di sacrificare il figlio isacco e proprio quando sta per farlo viene bloccato da un messo divino l'accettazione totale della volontà divina quando anche ciò comporti il sacrificio del proprio figlio simboleggia l'uomo religioso il quale si caratterizza anche per il fatto di essere completamente solo nel suo agire e di più di essere totalmente in conflitto con la comunità con la sfera etica anche che condannerebbe indubitabilmente il suo agire in questo caso il sacrificio del figlio isacco dunque abramo è solo e va contro l'eticità ecco perché nella bibbia spiega kirchegard l'uomo religioso è spesso solo nel deserto dove può dialogare a tu per tu con dio lontano dagli occhi della comunità dunque abramo è solo e va contro l'eticità dicevamo ma riesce in questo modo a trovare quell'aggancio con l'assoluto che mancava naturalmente nella vita estetica e anche in quella etica il dio di abramo non è come già aveva detto pascal quello dei filosofi degli scienziati dei teologi ma il dio personale con cui si può abbandonare dialogando e abbandonando la sfera etica sotto questo riguardo dice kirchegard abbiamo il compimento dell'esistenza con la vita religiosa con cui ci si aggancia all'assoluto con cui si abbandona la sfera estetica e si abbandona anche quella etica si fa esperienza dell'eterno o più precisamente dell'eterno che si cala nel tempo l'uomo estetico vive nell'istante quello etico nella scelta ribadita l'uomo religioso vive invece nel momento ovvero nella riproposizione dell'istante ma di un istante che è dotato di un senso assoluto da che se l'estetica è mancanza di tempo e l'etica è tempo lineare la religiosità è per parte sua inserzione dell'eternità nel tempo detto altrimenti nella vita religiosa di abramo abbiamo l'eterno che si cala nel tempo qui però a differenza che in hegel non vi è mediazione tra eternità e tempo in quanto è l'eternità che irrompe nel tempo facendo esplodere tutte le sue regole un'idea che si accosta molto bene all'idea cristiana secondo cui dio si incarna in cristo e nella storia ecco allora che con la vita che con la vita religiosa abbiamo il non plus ultra del dell'esistenza si entra in una vita propriamente paradossale perché da un punto di vista possiamo dire così mondano l'adesione ai moduli della vita religiosa è follia e assurdità e tuttavia è solo in questo modo che si addiviene secondo kirkgaard al punto più estremo più radicale e più alto dell'esistenza grazie a tutti